buongiorno dannine eccomi pronta esaudire la richiesta di un po di clienti fai il video per fare la cubotta ok sono pronta ovviamente questo video sarà un po più lungo e un po più articolato per quello che ho posto un po di resistenza ma vabbè adesso rifatto qui tutta una configurazione nuova in laboratorio alle spalle vedete il pezzo di laboratorio per chi non c'è mai stata sto usando il tavolo della bigiotteria della daniela non diteglielo però e allora eccoci qui pronti per la cubotta allora cubotta questa adesso vi faccio vedere bene qual è la bustina sono queste le buste queste qua che sono possono essere rettangolari più più quadrate alte larghe lunghe strette sulle misure non ci sono problemi decidete voi senza limitazioni e e si realizzano con tutta la cerniera in alto e basta adesso no però la cosa importante prima di tutto è fare le misure ok allora voi sapete che io ho sempre questi schemi che funzionano diciamo che non hanno mai delle misure predefinite siete voi a decidere come la volete grande larga lunga stretta allora decidete le misure di a b e c per cui la larghezza l'altezza e la profondità e in base a queste misure con le formule che sono qua riportate andate a ottenere le dimensioni della stoffa che dovete tagliare io questo lavoro l'ho già fatto ho fatto una cubottina piccola perché così è un pochettino più veloce da fare durante il video insomma ok misure fatte mi sono tagliata la stoffa a misura fate attenzione che se avete una stoffa come questa qua che ho scelto io che diciamo a un verso il fiore dobbiamo andare a tagliare in mezzo e creare due pezzi che andiamo unire così al centro in modo tale che i fiori abbiano lo stesso verso da una parte dall'altra perché altrimenti se andessimo a fare la bustina da una parte i fiori sono gambe all'aria per cui fate attenzione a questa cosa nel caso in cui il tessuto abbia un verso ok poi ho utilizzato questa nuova imbottitura che sto imparando a usare in quest'ultimo periodo in questi giorni qua la sto testando l'avevo già presa un po di tempo fa ma la sto testando in questi giorni è una a volevo darvi una novità chissà se oggi sto al centro mi sono fatta un piccolo segnettino al centro del tavolo e vediamo se riuscirò a tenerle inquadrature al centro più di questo non so cosa inventarmi per imparare a stare al centro del lavoro stavo dicendo l'imbottitura questa qui nuova è un'imbottitura termoadesiva non è tanto spessa è molto simile a quella che usavamo è molto simile anche al panno lenci come consistenza però sicuramente qualitativamente più bella rispetto al panno lenci e poi ancora questa caratteristica di essere termoadesiva su un lato ci sono questi puntini che non so se riuscite a percepire dal video per cui questa parte con i puntini si stira si posiziona sul retro della stoffa dopodiché si stira tranquillamente e lei rimane attaccata anche questa operazione io l'ho già fatta ok per cui tessuto per guardare i due versi cucitura in mezzo e attaccata la l'imbottitura tutte operazioni che voi non avete bisogno che stia qui a farvi vedere allora si taglia un pezzo di stoffa per l'esterno un pezzo di stoffa io ho deciso di farla così la mia fodera con i può che così quando metterò dentro le cose poi mi andranno insieme le balle degli occhi come si suol dire ma mi piaceva un sacco per cui esterno fodera i due triangolini che serviranno lateralmente per coprire la cerniera e anche per prenderla e il manichetto il bindellino che servirà per appenderla poi lo vedremo ok allora ho già tagliato tutto e ho già stirato quello che mi serviva per velocizzare per andare a raccontarvi le cose importanti non adesso stirate che non ci interessa allora cose importanti cosa sono ho il mio fronte gli ho messo l'imbottitura ecco se non avete l'imbottitura questa qua termoadesiva nessun problema andate a mettere un panno lenci e trapuntiamo come abbiamo sempre fatto è ricordatevi sempre quando si trapunta al panno lenci un pochettino più largo e partiamo dal panno lenci e finiamo sul panno lenci ok torniamo sul tavolo prendiamo la nostra cerniera io utilizzo queste cerniere a metro per cui le mie cerniere non hanno mai il blocchino qua di metallo che a me non fa impazzire se per caso avete quelle cerniere normali rifinite mio consiglio personale è quella parte con il pezzettino di metallo iniziale e finale tenetelo fuori dal lavoro in modo tale che non si vede per cui tanto la cerniera poi verrà cucita però io parto col mio lavoro senza vedere quel cosino di metallo ecco toglietelo state attente perché se andate con l'ago sul cosino di metallo sicuramente rompete l'ago allora detto questo per attaccare le cerniere serve il piedino da cerniera questo già lo sapete tutte immagino chi non lo sa glielo rispieghiamo un attimo è un piedino più stretto del piedino normale vi faccio vedere la differenza ok il piedino normale è questo anzi facciamo una roba più saggia ve lo faccio vedere sulla macchina perché così almeno abbiamo un'inquadratura po migliore allora piedino normale mi permetterebbe posizioniamoci dove c'è la cerniera mi permetterebbe di cucire qua rispetto alla cerniera vedete quanto rimango distante mentre col piedino della cerniera io ho la possibilità se vieni via è meglio ok io ho la possibilità di andare a cucire molto più vicino alla cerniera vedete quanto andiamo vicino ma lo tale che se la mia cucitura viene qua la stoffa poi sarà qua quando noi giriamo non vediamo troppa stoffa di fianco alla cerniera se noi invece cuciamo qua vediamo tanta cerniera allora in questa macchina che è una bernina il piedino è fatto così sembra uno sci poi vi capiterà invece su altre macchine magari faf necchio che di avere un piedino fatto in questo modo questo altro piedino ha qua sotto un gradino vedete ecco questo gradino qua deve appoggiarsi sulla cerniera per cui fate finta di trovarvi in questa condizione lavoriamo sempre da questa parte tenendo la cerniera da questa parte e siamo in questa condizione appoggiamo il nostro piedino sulla cerniera per cui il gradino e andremo a cucire sempre vicino ok per cui vedete il gradino si appoggia sulla cerniera non rimane di fianco ma va proprio sopra ok bene adesso io ho messo già il mio piedino per la cerniera i fili li ho infilati eccolo qua ricordatevi sempre tenete i fili ben lunghi quando iniziamo a lavorare e cosa fa si è incastrato attenzione io sono ovviamente ho provato tutto prima e adesso qualcosa mi fa gli scherzi va bene va bene rinfiliamo in diretta la macchina e come dicono no il bello della diretta lo dicono per consolarsi perché in realtà uno si irrita molto quando succedono queste cose però diciamolo così ok ok abbiamo tirato sul filo ricordatevi è quando si pesca il filo si tiene il filo superiore si va giù e si pesca ragazzi una cosa importante non ho messo il pedale della macchina attenzione preparato tutto e che cosa fa manca il pedale della macchina e vabbè e vabbè arrivo è no non volevo ripartire a fare tutto il video dai dai così chi non mi conosce ha già capito che sono un post orlitella cosa ci dobbiamo fare ok adesso c'è anche il pedale della macchina mancava tutto mancava quello piedino ok allora come iniziamo a lavorare dritto della cerniera che è il dritto dove vedete il pulsantino col dritto della mia stoffa ok la cerniera l'ho tagliata un pochettino più larga del mio pezzo di stoffa e adesso vado ad attaccarla così qui sotto lascio sempre un pochettino di margine vedete che parto visto che la cerniera un po abbondante io parto da dove sotto non ho ancora la stoffa in modo tale che la mia cucitura inizierà precisamente da dove c'è la stoffa tiro i fili e parto ok dico la macchina di fermarsi sempre con l'ago giù questo glielo posso dire dato la tipologia di macchina e adesso che cosa faccio con questo spillo mi aiuto e tengo sempre la cerniera lì in posizione vedete vedo sempre un pezzettino del tessuto sotto e pian pianino vado a cucire allora arrivo a un certo punto dove il cursore mi dà fastidio tiro sul piedino e sposto indietro il cursore ok in modo tale da in questo modo non mi dà più fastidio bene continuiamo la nostra cucitura andiamo avanti come vedete io posiziono man mano il mio lavoro ok non sto guarda a posizionare tanto tengo le mie mani qui occhio questo mal di mare quando prendo dentro ok lavoro così che anche io faccio i pezzetti piccoli metto tutto in posizione ok perfetto togliamo il lavoro e ci mettiamo e torniamo un attimo sul tavolo ok allora sul tavolo siamo in questa condizione tagliamo i fili che ci disturbano cerchiamo di avere un lavoro pulito allora abbiamo attaccato la cerniera da un lato e adesso ragazzi qui è il punto più difficile qui le mie donnine si giocano sempre un sacco di punti perché gli faccio il test se fanno giusta questa mossa allora cerniera attaccata col fronte da una parte dobbiamo attaccarla dall'altra parte come facciamo allora non facciamo giri strani e robe strane semplicemente abbiamo attaccato da questa parte bene dobbiamo attaccare dall'altra parte bene prendiamo la parte dove devo attaccare la metto fronte a me prendo la cerniera che attaccata dall'altra parte e col dritto la vado a posizionare sopra ok in questo modo come avete fatto prima dritto della stoffa prendo la cerniera la metto sopra bene adesso sul secondo lato faccio la stessa identica cosa dritto della stoffa la guardo qua in alto prendo la cerniera che vabbè è attaccata ma prendo il lato che non è attaccato e lo vado a mettere sopra e via che cuccio ecco l'unica cosa qui dovete fare attenzione a non cucire così ok perché poi questo sfasa per cui la vostra cucitura adesso della cerniera magari la chiudete un attimino per vedere bene dove arriva e verifichiamo ok che l'altezza sia questa in modo tale che questi due sono allineati qua se voglio prima di spostarmi prendo uno spillo prendo uno spillo e lo vado a posizionare qua tac così almeno so che questa parte qui è allineata ok adesso posso riaprire il cursore e qui parto con la cerniera aperta ok una volta avrete la cerniera aperta e una volta avrete la cerniera chiusa non è giusto e sbagliato ne uno nell'altro sarà un po capita così un po capita cosa ricordiamoci di togliere lo spillo e ricordiamoci di tenere i fili quando partiamo ok dai vai sotto al piedino i fili li teniamo e devono sempre stare sotto al piedino ok vi attengo il mio spillo sono della mia solita posizione con la macchina e devo essere onesta sono molto scomoda ma per voi questo ed altro mettiamola così stessa scena di prima poi il cursore mi darà fastidio cerco di non farlo all'ultimo giù l'ago ok sul piedino e ci spostiamo spingiamo dietro sempre stessa scena ok giù e tiro ok finita cerniera attaccata cerniera che è l'incubo di tutti eh ok cerniera attaccata sulla nostra sul nostro pezzo di stoffa adesso cosa dobbiamo fare dobbiamo trovare il centro come si trova il centro sapete vero si piega in due così si tira e si va a fare una piccola intacca così come dicono le sarte vere l'intacca non è nient'altro che un triangolino vi metto sotto la mano che almeno non avete il fondo bianco che vi permette di vedere in qualsiasi condizione il centro della stoffa in questo caso potrei anche utilizzare il la cucitura è la cucitura delle stoffe visto che in questo caso ho la stoffa con un verso ma io preferisco comunque fare l'intacchina ok bene intaccare essere in tacca a sinistra cosa facciamo ci mettiamo qui e apriamo facciamo appoggiare la cerniera aperta così al centro che abbiamo posizionato e ci mettiamo qua così tac e tac ok però prima di chiudere dobbiamo mettere dentro i triangolini allora i triangolini sul sul carta modello vi dico di fare anche due quadrati sette per sette quando avete tagliato il quadrato poi cosa dovete fare andate a stirarlo in questo modo un triangolo così e poi ancora un altro triangolo così e così vengono fuori i triangolini rifiniti che poi andranno nella nostra pochettina anche quello io l'ho già fatto li ho già stirati tac e che cosa faccio la punta la metto qui e guarda caso qui c'ho la cucitura che sono comoda la faccio stare sulla cucitura rimango fuori un pochino la mia cerniera si appoggia sopra fa così e vado a mettere degli spilli spilli io metto questi qui che sono gli spilli da patchwork sono spilli che nascono appunto nel nel mondo patchwork e hanno questa caratteristica sono più lunghi e più flessibili degli spilli normali vedete uno spillo normale è così e questo è così per cui è molto più lungo e molto più flessibile di fatti se quando andiamo a cucire per caso con l'ago prendiamo lo spillo non nulla accade può succedere una volta su 12 che si rompa l'ago ma tendenzialmente non succede ok allora un lato centro triangolino cuciamo cuciture tutte a piedino ok allora via adesso non devo più attaccare cerniere tolgo il piedino della cerniera metto il piedino normale in questa macchina devo riposizionare anche l'ago in posizione centrale e vado a fare la cucitura allora stavo dicendo cosa vuol dire cucitura a piedino vuol dire che il mio tessuto deve sbirciare qua fuori ok in modo tale da sapere di avere un margine di cucitura da 0.85 avanti e indietro saldatura vado vedete posso passare sopra gli spilli e non accade nulla qui magari non vado velocissima mi aiuto magari sempre con uno spillo nella destra e aiuto a schiacciare il mio lavoro se ho dei dubbi alzo il piedino e schiaccio giù bene ok allora qui perché vado un pochettino più piano certo la cerniera se voglio magari vi faccio anche un piccolo avanti e indietro perché un punto un po difficilino ok qui il mio triangolino l'ho lasciato il proposto che venisse fuori un po di più sono sempre a piedino arrivo in fondo arrivo in fondo un pochino di avanti e indietro ok qui sono andata un po oltre mi ero scappato il dito ma ho saldato ok fatto questo stessa scena dobbiamo fare adesso dall'altra parte ok però dall'altra parte abbiamo un'altra piccola diciamo variante perché perché la cerniera è aperta ok però noi dobbiamo sempre posizionarci in questo modo come se la nostra cerniera fosse chiusa state attenzione a non fare delle cose così o robe strane fate finta che la cerniera se volete tirate su un pochino questo che vi può aiutare per posizionarlo ma poi allontanatelo perché altrimenti siete troppo vicini quando andate a cucire rischia di darvi fastidio poi magari se il cursore si posiziona male avete dei disagi per cui magari lo tirate su così in modo tale da posizionare e poi lo ritirate via allora qui che cosa dobbiamo fare dobbiamo mettere oltre al triangolino anche quello che io voglio essere il manico della mia pochette come faccio a fare il manico taglio una striscia da 5 barra 4 centimetri l'ho fatta da 4 perché mi piacciono un po più sottili poi questa pochettina un po piccina per cui volevo fosse un po sottile tagliata la striscia cosa facciamo stiriamo un lato di un centimetro da una parte un lato di un centimetro dall'altra e poi pieghiamo in due ok a questo punto andiamo a fare una cucitura qua vicina la cucitura che andremo a fare in questo caso guardate è qua vicino al bordo è perché se lo andiamo a fare internamente poi questo si apre ok per cui questa cucitura differenza di come vi dico sempre non è a piedino ma è bene sul bordo e perché perché comunque il tessuto dentro è piegato cioè noi cuciamo a piedino perché altrimenti il tessuto sfilaccia ma se noi l'abbiamo già piegato dentro e girato così qua il tessuto non sfilaccia più e per cui posso andare a cucire vicino riflettete sempre la storia del piedino che è importante però se il tessuto non sfila posso andare non a piedino ok allora qui dall'altra parte cosa ho detto che dobbiamo mettere il manico prima di tutto lo pieghiamo in questo modo e lo andiamo anche lui a mettere all'interno è pensate che quello che volete vedere quando la pochettina è finita va tutto all'interno adesso in questo momento per cui lo infiliamo così mettiamo due spilli dall'interno uno a destra e uno a sinistra qui io il manico lo metto a cavallo del mio centro vedete non lo sto a mettere uno sopra l'altro perché altrimenti in quel punto avrai tanti strati di stoffa diventa troppo ciccio dove ho messo il triangolo porca paletta eccolo qua mi dicevate niente triangolino qua per cui ma bindellino manico sempre col centro che arriva al centro qui io sono facilitata avendo il la cucitura questo qua lo metto così se volete puntatevelo al centro di là non l'abbiamo puntato però avere o meno cose se volete puntatevelo un attimino così in modo tale che non si muove e adesso la cerniera cerniera così 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 e vediamo che tutto sia al centro ok qui vedo che al centro centro la cerniera cade al centro delle mie dei miei manici per cui è tutto giusto spillo a destra tac e spillo a sinistra ecco gli spilli sono sempre perpendicolari alla cucitura eh qualche donnina delle mie che vabbè vuoi ripassare la bustina sentirà queste cose già un po alla nausea però visto che qua guardano anche tante donnine che io non conosco devo dirle tutte le cose allora piedino un po abbondante giù tengo i fili tiro i fili saldatura poco avanti indietro ok oppa qui adesso è chiaro che vedete io qua non gli ho messi gli spilli perché voi molto spesso mettete gli spilli qua proprio dove c'è la cerniera e poi mentre passate sopra il dito rimane un gnoppone durissimo ok allora io qui non la metto non gli ho messi però adesso quando arrivo lì in zona con questo spillo mi aiuto per cui che cosa faccio questi con le dita le tengo giù piatte e questo tac tac al tiro tengo giù l'ago alzo il piedino e con lo spillo mi sto aiutando a far andare tutto sotto bene non è che sono vedete qui vado piano magari faccio come abbiamo fatto di là un piccolo avanti e indietro vado molto lenta così mollo l'avanti e indietro e torno in avanti sapete che tutte le ma questo verso è stato il verso del lago ma so serena sapete che tutte le macchine vanno in retro e solitamente hanno un pulsante o un qualche cosa che fin tanto che teniamo schiacciato va in retro poi appena mogliamo torna andare in avanti ok in questa macchina quando non mi vedete vedete che il piedino si alza non è che sono telepatica è la macchina che ha una ginocchiera si chiama che permette di tirar sul piedino è allora via togliamo tutti gli aghi e andiamo anche togliere quelli che si sono nascosti dentro no per cui questi tre qua 123 e abbiamo una pochette piatta dovete crei la volevamo alta doveva essere alta almeno dieci centimetri con calma adesso la tiriamo alta allora tiriamo questi quattro angoli così in modo tale che noi vediamo questa piega adesso io ci metto uno spillo perché non ho voglia di perdere tempo andare ad astirare per cui ha bisogno di vedere questa questo segno e poi che cosa faccio vado dentro e faccio l'angolo l'angolo che è quello che facciamo nel cestino che è quello che facciamo nella borsa è sempre il solito angolo che serve per dare un po di spessore ok allora avete visto come ho fatto è tutto chiaro metà diranno sì certo abbiamo già fatto 18 volte l'altra metà dirà no capito un tubo non si vede allora adesso questo qua lo facciamo così mi faccio vi faccio subito vedere l'altro allora abbiamo detto metto lo spillo perché devo identificare questa piega e questa cucitura già ce l'ho metto dentro la manina e allargo in modo tale che io devo trovare il modo che questa cucitura e questo dove ho messo lo spillo tirando bene ok si diano il bacino ok questa e questa si danno il bacino di fatti se io metto metto anche lo spillo con il cuoricino ma che roba se io faccio così vedete che coincidono ok ecco quando fate questa cosa poi tutte mettete lo spillo così e lo lasciate a milite e quindi vedi che coincide no perché questo qua si sposta si gira e non va bene per qui segno dietro tiro bene e non lascio ricchezza di stoffa qua sotto è allargate bene con le dita eventualmente dall'interno ok quando ho visto che questi due coincidono così ok guardate sempre qua dove c'è la piega lasciatela pure chiusa ma guardate da qui poi mettete uno spillo a destra e uno spillo a sinistra ok e poi mollate non lasciate solo l'ago centrale perché con l'ago centrale il lavoro va dove ha voglia mettete i due spilli laterali togliamo lo spillo sotto e adesso possiamo dire di aver posizionato il l'angolo ok quando abbiamo posizionato cosa dobbiamo fare dobbiamo fare la misura allora misura com'è io uso questi righelli anche loro sono righelli da patchwork che vengono molto comodi perché vi permettono facilmente di fare parallele perpendicolari e che comunque noi che cosa dobbiamo fare dobbiamo fare una riga qui a cavallo di questa cucitura e dobbiamo avere attenzione una roba fermi tutti questa frase è importantissima gli angoli devono essere piegati secondo la misura b ok per cui b io ho deciso che era 10 per cui i miei angoli dovranno essere da 10 come faccio a definire 10 mi metto su questa cucitura scorro su e giù col mio righello fino ad avere 5 centimetri a destra e 5 centimetri a sinistra e con la penna vado a segnare ok per cui questa riga che io ho tracciato è lunga 10 centimetri perpendicolare rispetto a questa cucitura 5 a destra e 5 a sinistra ok vado a segnarle adesso segno questi due di qua adesso magari vi vi li faccio vedere li faccio tutti e quattro perché mi serve farli tutti e quattro e poi li andiamo a cucire adesso ne ho fatti due e li cuciamo così eccoci qua allora perché altrimenti se metto scusate se metto tutti gli spilli cioè più spilli avete quando andate a lavorare più mentre quando muovete il vostro il vostro pezzo sembra un porco spino perché sono pieni di spilli per cui io cerco magari di farne due e due o uno alla volta come volete insomma allora tengo i fili qui serve assolutamente fare la saldatura perché qui poi dopo non verrà più toccata da nessuno vado avanti un pochino tengo schiacciato vado bene in avanti questa cucitura deve essere aperta ok vedete io adesso arrivo qui con le dita mi aiuto rallento un po tengo giù l'ago tiro sul piedino sposto sotto la mia stoffina e mi aiuto in questo modo e passo tranquillamente dall'altra parte saldatura anche di qua ok via un angolo è fatto facciamo subito l'altro l'altro qui se voglio tolgo gli spilli così diminuiscono le probabilità all'ora che prendo dentro suo telefono diminuiscono le probabilità di pungersi via avanti e indietro qui teniamo aperto tiro su un attimo per passare ok ok via fatto mi sei imbizzarrito il telefono non sei imbizzarrito il telefono supporto sono imbizzarrita io ok i due angoli sono fatti veloci dall'altra parte allora identifichiamo il lato che se non avete capito la prima volta la seconda forse la terza la quarta dai che capiamo metto lo spillo metto dentro la mano apro tattac questi due si danno il bacino tirate bene il tessuto è e mettete spillo a destra e spillo a sinistra ok togliamo quello dietro e andiamo a segnarlo prendo il righello scorro sulla cucitura centrale salgo scendo cinque a destra cinque a sinistra attac tra 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 ok via l'altro metto lo spillo dietro seguo il centro posto quasi al centro del lavoro aspetta che mi va via l'adesivino qua e poi non lo trovo più via apriamo ok eccoci qua oggi ho cambiato posizione qua della in laboratorio anziché stare sul tavolo dove c'è la macchina cambiato posizione perché l'ultimo video quello della pochettina da polso a un certo punto mi sono inondata di sole per cui era un disastro non si vedeva più un tubo e allora ho dovuto spostarmi e mi sono spostata su quest'altro tavolo qua in laboratorio dove comunque ho la luce ma non ho la luce diretta del sole che entra dalla finestra ok per quello che ho rubato il tavolo donna daniela via fatto questi due ci spostiamo sul sulla macchina giù piedino tengo i fili e via avanti e indietro queste ve le ripeto perché poi sono le robe che tutte le robe che io ripeto 14 volte sono le robe che 14 volte sbagliate qua in laboratorio e per cui immagino che mi impegnate e riuscite a sbagliare arca vacca prendo sempre dentro 14 volte anche a casa per cui se a casa non vi vengono non arrabbiatevi fa parte del gioco ok tengo aperto vado ok è fatto anche questo adesso tac tac via tutti ok se volete pulite ok sempre bene tenere un po pulito il lavoro vero che poi questi fili non si vedono poi ti si ingruppano in giro e vanno dove non devono ok 4 4 angoli fatti ok giriamo pronte a una premessa io queste parti qui non le taglio solitamente non mi danno fastidio però non cambia niente non mi danno fastidio nelle pochettine magari un pochettino più grandi forse questa che un po più piccola potrebbe togliermi un po di spazio dentro per cui nessun problema dopo che ho fatto prendo e taglio lasciate il margine di cucitura e lasciate un centimetro ok e taglio chiaro se le ho tagliate giro e vedo che qualcosa è sbagliato o che la volevo più alta più lungo più stretta non posso più scucire e rifare l'angolo se non le tagliate scuccio rifaccio l'angolo e posso cambiare l'altezza qua scuccio è finito il gioco così è così resta per cui adesso ve ne lascio due tagliati e due no così vedete la differenza ma mi piace sta bustina tiriamo fuori bene gli angoli ok ok col ditino da dentro e ecco qui la nostra bottina il triangolino che copre qua la cerniera e qua bindellino e triangolino triangolino che vi anche utile quando dovete aprire chiudere no nel senso che lo potete tenere ma poi copre la cerniera ed è molto carino anche esteticamente allora vedete i triangoli dentro non è che diano fastidio questa è un po piccolina per cui magari potrebbero ingombrare però ripeto state attente tagliate quando avete deciso a cavoli e giusta se invece girando ti accorgi che a no la volevo più basso più alta scucite rifate l'angolo ok se avete tagliato ciccia adesso io oramai ne ho tagliati essendo lei un po piccola li taglio tutti e quattro ok via bene abbiamo fatto questa e adesso viene la parte della fodera che qui in laboratorio io non dico mai alle donne che in questa pochettina la fodera deve essere attaccata a mano perché altrimenti oppongono resistenza faccio la telecamera davanti oggi abbiamo anche il tubo oppongono resistenza perché cucire a mano no non voglio e che con questa pochette la cosa più semplice è cucirla a mano esiste si capiterà di vedere qualche altro tutorial dove vi fanno vedere che si cuce a macchina però è un rimane molto più difficile per cui a mio parere costo beneficio tra farla con la tecnica di unirla con la macchina da cucire e invece mettersi qui e fare la cucitura a mano non vale la pena nel senso che cucitura a mano tanto poi vi farò vedere una cucitura molto facile non verrà nascosta qua dentro faccio vedere verrà nascosta qui sotto e dentro per cui non anche se non è perfetta non rovinerà nulla viceversa invece farla a macchina risulta una lavorazione molto più difficile ok allora detto questo via la porsettina prendiamo la fodera abbiamo detto che la fodera abbiamo tagliato un pezzo di stoffa identico all'esterno è identica all'imbottitura cosa ho fatto io l'ho già fatto che così abbiamo il nostro pezzo di stoffa stiriamo un centimetro a destra e un centimetro a sinistra ok in questo modo semplicemente una stiratura ok troviamo il centro come sempre il centro si piega e si fa l'intacca anche quella io l'ho già fatta e posiziono e poi piego i due lembi in questo modo al centro lasciando qui in mezzo un centimetro se vi ricordate la stessa identica cosa che abbiamo fatto con la pochette di prima solo che cos'è non abbiamo la cerniera però questa cucitura questa stiratura mangia quello che ha il margine di cucitura che si è mangiata la cerniera prima cioè questo centimetrino qua ok poi qui io mi posiziono questi qua non li affianco ed è lo spazio di fatto che è della nostra cerniera ok per cui io sto lavorando facendo finta di avere la cerniera ma in realtà senza averla ok per cui la fodera come si fa si fa lo stesso identico modo semplicemente senza la cerniera per cui posiziono stiro posizione al centro e vado a fare due cuciture laterali tac tac ok adesso vedete qua ho messo già tutti gli spilli vado a fare due cuciture laterali adesso tac ci spostiamo sulla macchina e le faccio anche queste a piedino ok metto qua così tiro i fili davanti e indietro questo si sta un po spostando ok faccio subito anche dall'altra parte ok togliamo tutti gli spilli e adesso secondo voi cosa facciamo facciamo i quattro angoli allo stesso identico modo di prima qui facciamo finta di stirare ok apriamo allarghiamo ci diamo il bacino ok tiriamo bene il tessuto magari mettiamo la mano dentro cosa dite li volete vedere tutti e quattro che la metto dentro ma anche no dai quello oramai l'avete capito ok adesso ne faccio solo uno giusto proprio per ok stessa scena di prima 30 poi il video diventa lungo e noioso invece voi il concetto l'avete già capito cucitura cinque a destra cinque a sinistra e avete tempo per lavorare poi se avete voglia mandatemi i lavoretti che fate guardando i video i compiti così verifico i compiti e fate le furbe davanti e indietro a qui non ero bella centrata ma lavoro col telefono col telefono col telefono con la telecamera davanti che poi in realtà il cliente e la macchina è ok perfetto angolo fatto ok e fate questa cosa su tutti e quattro i lati ok e così otteniamo la fodera quando abbiamo finito tutta la fodera cosa facciamo facciamo finta di averli fatti tutti e quattro la mettete all'interno così e andate a fare una cucitura adesso vi faccio vedere ok una cucitura questo qui è il vedete il lato dove c'era la cerniera il quadratino ci posizioniamo qui e andiamo a fare una cucitura che deve rimanere al di sotto di questa cucitura della mia cerniera che qua vediamo e facciamo dei piccoli punti adesso ovviamente non ho preso la lo spillo ma vado a prenderlo occhio che vado a prendersi tutto eccolo qua eccolo qua eccolo qua chi viene in laboratorio lo sa che gli stili e si nascondono sempre eccolo qua ma l'ho beccato prendiamo un po di filo ok infiliamo e visto che sono qua da sola posso infilare comodo come si faceva un tempo senza litigare con la mascherina a caspita mi sono dimenticata di fare la transizione per cui tutto questo non l'avete visto allora che barba che noia non riesco mai a finire tutto perfetto stava venendo bene vabbè cosa ho detto allora abbiamo fatto l'angolo sulla fodera mettiamo dentro la fodera e ci posizioniamo così tac tac e tac ok vedete il buchino che abbiamo lasciato prima lo facciamo coincidere qua con dove dove c'è la cerniera e poi con un con un ago e il filo andiamo magari ecco siamo più comode poi a girare in fuori il nostro lavoro io adesso vi faccio vedere come dovete poi attaccarmi e andiamo a fare vi nascondete qui fate un piccolo nodino ecco non fatevi paranoia sul fare questa cucitura in acqua mano è per cui partiamo così facciamo fate un nodino alla fine del filo ecco non usate sicuramente il filo doppio è filo doppio non ha senso per cui faccio così dove non mi vede nessuno ok blocco il filo io solitamente non faccio nodini magari faccio due puntini così tiro e vedo che mi sono fermata ok parto da qua parto posiziono questo qua bene e inizio così faccio un puntino e cuccio la mia fodera allora un puntino così sulla cerniera e un puntino sulla fodera qui vado dove c'è la cerniera viaggio sotto la cerniera un pochino e vengo fuori qua nella fodera e poi il puntino qua lo faccio piccolo vedete adesso vediamo di aspetta vengo vicino 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 così cerco di farvelo vedere vicino 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 ok sono qui vado qua perfettamente sopra così il puntino visibile è poco viaggio un pochettino sotto la cerniera esco qua esco qua tiro e poi vado sopra dritta ok tiro sopra dritta viaggio un pochettino sotto la cerniera e vengo così così voi ottenete un puntino qua piccolo piccolo che non si vede l'importante che sia al di sotto di questa cucitura perché se andate sopra poi uscite sul dritto ok invece voi dovete sempre stare sul rovescio e qui quando andate sul rovescio che dovete prendere non dovete prendere chissà che cosa ok cioè non è che devo andare sotto per prendere la stoffa e che basta anche solo che prendete la cerniera ok senza andare da nessuna parte prendete solo un pochettino la cerniera venite qua e fate così ok l'ultimo trucco che vi devo dire è questo per cui facciamo finta che questa è fatta la mia fodera è così mi piace un sacco questa foderina qui ma non riuscite a vederla tanto con la luce adesso la chiudiamo vi stavo dicendo l'unico trucchetto che vi dico per quando andate a mettere la fodera è quello partite da qua dall'estremo e iniziate attaccare la fodera e arrivate fino a metà dopo poco meno di metà dopodiché partite da qua e arrivate qui in modo tale che se magari il tessuto c'è un po di morbidezza o qualche cosa voi qui sotto vi nascondete fate una piccola piegolina ma qua sotto non si vede perché comunque è la mia pochettina è così e rimane nascosta qua sotto qui di fianco la fate bella precisa e se c'è qualche piegolina o perché magari una vi è venuta un po più piccolina un po più larga andate a giocarvela qua intorno ok per cui parto un po di qua un po di qua eventualmente aggiusto lì in mezzo allora donnine che dire spero sia tutto chiaro adesso questa pochettina non ha più segreti ok spero almeno che non abbia più segreti come sempre dubbi e perplessità chiamatemi per avere lo schema per fare le misure mandate una mail adesso vi lascio qua tutti i riferimenti del laboratorio che si trova a milano sul sito trovate la mia mail comunque lo trovate anche nella didascalia qua sotto al video di youtube non ve lo dico ma vi fa piacere se mette se vi iscrivete al canale buon lavoro e se c'è bisogno fatemi sapere grazie ciao